6 febbraio 2023 ci troviamo al comune di luogo dei mazzi sono le 11 e 15 questo paciente un insolito sentiero ecco qui questa la maggior parte delle persone non lo fanno quasi mai perché scoscienza c'è pietra poi specialmente mesi invernali e quindi chiede doti atletiche essere molto agili guardate io come salgo senza l'appelio delle mani e finalmente siamo arrivati qui al classico sentiero dell'imboschimento facciamo continua la mia escursione comunque è freddo si è freddo diciamo il vento zero massimo grado anche se qui la posizione della montagna è riparata dal vento ma scendendo giù o più in là il vento dire più forte